POPOPORO POPORO POPOPOPOPOM POM 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 Ciao a tutti, a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo. Sì, colui che vedete tira il gruppo dei migliori a 5,3 km da quella che c'è stata proposta come la tappa regina della Volta Espagna 2021 è Yanir della Want Intermarché che sta lavorando per il suo capitano Luis Mendies. Questa poderosa azione è volta ad andare a caccia del fuggitivo David de la Cruz, pericoloso per la classifica di Mendies. Qual è la posizione di classifica di Mendies? Ebbene sì, a 5 km dalla fine della tappa regina, col temibilissimo alto il Gamoniteru, noi da casa stiamo assistendo alla lotta per il decimo posto. O nono, undicesimo, quello che è, non mi cambia nulla nella vita. E ho scelto questa immagine con l'Irtone e con Luisito Mestiens, a loro tutta la nostra ammirazione, perché racchiude un pochino tutto ciò che non mi piace delle tappe con questi maxicolli mostruosi finali. Le tappe come questa o come quelle dello Zoncolan, dell'Angliru, sono un invito generale all'attendismo. Non fanno tantissima differenza, questi gruppi di corridori che si sgranano davanti ai nostri occhi, facendo selezione da dietro, non creano lo spettacolo, secondo me, che gli si vorrebbe costruire attorno a livello di narrazione mediatica. Io preferisco mille altri tipi di tappe, poi per carità, le ciambelle possono riuscire in maniere diverse. Oggi, secondo me, è stata una tappa alquanto noiosa, ma onestamente, dopo quella di ieri, non mi aspettavo nulla di diverso. Quei valori che ci sono in campo attualmente e il fatto che squadre come Movistar e Ineos siano rimaste con soli 5 elementi, la mia non vuole certo essere una critica ai ciclisti, che peraltro hanno trovato due giorni di maltempo tremendo, sono arrivati in cima al Gamoniteuru tutti congelati, è stata assolutamente una tappa durissima. Non sono qui a pretendere cose impossibili dai corridori, ma io sono qui per restituire le mie sensazioni. E allora andiamo col racconto veloce di quella che è stata un po' la mazza caffè della cena di ieri, che era già un pasto completo da solo. Vai col rewind. La tappa in anaccele è che la Bahrain manca completamente la fuga. Ci sono 22 squadre rappresentate su 23. Un capolavoro raro. Complimenti alla Bahrain-Victorious per questa perla, che costringe Arashiro e Tratnik a fare il ritmo per praticamente 4 quinti di tappa, puniti dai propri direttori sportivi, anche perché oltre alla classifica di Jack Keig e Gino Meder e alla maglia può potenziale di Damiano Caruso, che però comunque rimane molto difficile, hanno in ballo a classifica squadre, la quale invece sono i favoriti numero uno. E quindi la Bahrain decide di tirare per tutto il giorno. Tiene la fuga a tiro, fa un ritmo controllato, davanti da un gruppo iniziale di circa 233 corridori, indovina un po' ai meno 70, che è un po' la distanza preferita dei fughisti in questa vuelta. Parte il solito Michael Storer. E sostanzialmente oggi assistiamo ad una lotta interna di SM per chi prenderà la maglia può. Perché fino ad oggi c'era Bardet, ma Storer se ne fotte completamente, se ne va, va a prendersi tutti i punti, ha sprintato anche nel primo GPM. Oggi c'era una serie di GPM veramente duri, era una tappa altimetricamente devastante. E Michael Storer ha dimostrato di essere uno dei migliori scalatori di questa vuelta, sicuramente il numero uno fra quelli che tendenzialmente vanno in fuga e non stanno in classifica. E anche oggi rimarrà davanti tipo 65 km o qualcosa del genere. Assolutamente spaventoso, mi viene quasi a chiedermi se non poteva fare classifica. Sicuramente si è tenute molto bene le cartucce e ha fatto un po' quello che vorrei vedere fare. A tutti gli scalatori medio-forti, o forti ma non fortissimi, come vogliamo chiamarli, durante i GT, spero che Storer abbia il numero di telefono di Ciccone Formulo. Questa tappa è stata triste anche perché c'è stato l'ultimo IO, forse, perché in realtà c'è anche la ventesima tappa. Però quella di oggi è la tappa iconica. A taccone di Fabio Haru a 28 dalla fine, è scesa un pochino a acrimuccia. Devo dire che ha onorato pienamente la sua corsa, cioè la vuelta, e ha fatto un po' quello che mi aspettavo. Ha tenuto molto bene in prima settimana, ha fatto delle belle figure, non ha più il motore per vincere una tappa a questo livello. Ha calato pesantemente alla distanza, come gli è successo praticamente in tutte le corse che ha fatto negli ultimi anni. Ha avuto anche i problemi di stomaco, a quanto pare. E poi è riuscito a ritrovare energia in terza settimana per farsi vedere ancora, per regalare ai suoi tantissimi tifosi un ultimo sospiro nostalgico. Complimenti a Fabio perché secondo me ha affrontato questa vuelta col piglio giusto. Arriviamo al Gamoniteru senza che sia successo sostanzialmente nulla per tutta la tappa e col Damianone Caruso che tira il gruppo. Durante la giornata l'unica altra squadra a dare una mano è stata la Movistar, e bene sì, la Movistar ha tirato per qualche chilometro il gruppo. D'altronde dopo la giornata ieri Inos non poteva certo fare nulla, e la Jumbo ovviamente deve solo controllare. A poco più di 10 dalla fine ci sono un paio di tentativi. Parte prima Geoffrey Bouchard, poi David de la Cruz, che lo recupera e lo sorpassa agilmente. Almeno si prova sempre lo spagnolo, però non ci riesce mai. Oggi comunque farà una bella azione. La parte veramente dura della salita inizia verso i 6 dalla fine, quando la strada diventa molto stretta, le pendenze diventano più arcigne. Ed eccoci qui, col gruppo comandato da Janirth. Che amarezza. Qualche anno fa era amaro anche vedere le lotte per il terzo quarto posto addirittura. Poi pensavamo avessimo raggiunto l'apoteosi col settimo ottavo, adesso siamo arrivati al decimo. Fino a dove riuscirete a spingere la follia di questo gruppo, puntiucci. De la Cruz riprende l'incredibile australiano volante di questa vuelta. E poi a 4,8 dalla fine succede la prima cosa interessante di una tappa di 162,6. Cioè l'attacco di Eganito Bernal, che dopo ieri non era soddisfatto. Cuore oltre l'ostacolo Eganito. Stasera mangiamo una frittata di huevas. Lo segue Videogioco Umano Roglic. E poi dai, ormai i valori li conosciamo. I cinque migliori scalatori di questa vuelta sono questi qui. Roglic, Mass Lopez, Bernal Cus. Mass è nascosto dentro le mutande di Roglic. Mentre Jack Hague è più regolarista, sale il suo passo. Prende qualche decina di metri qui. Viene aiutato al ginone Meder, che sta facendo una vuelta spaventosa. E la Damo Yates oggi invece la subisce un pochino. Da subito non riesce a seguire il ritmo. Quattro dalla fine, squili di trombe. La Movistar fa una cosa aggressiva. Parte Miguel Angel Lopez, ce l'aspettavamo un po' tutti. Perché queste sono esattamente le sue salite. Parte bello convinto su questo tratto durissimo. E poi inizia lo show del torcicollo di Mal Furia Cavallo del West. Andiamo a contare insieme quante volte si è voltato Miguel Angel Lopez dopo questo attacco. Quanto meno quelle mostrate a regia, perché potrebbero anche essere tranquillamente di più. Subito dopo l'attacco. Uno. Cinquanta metri dopo. Due. Duecento metri dopo. Passa la curva, non si vede nulla. Tre. Se qualcuno mi può spiegare cosa sperava di vedere in questo momento, grazie. Il viandante Mal nel mare di nebbia. Quattro. Tipo altri trenta metri dopo. Un altro tornante dopo. Cinque. Qua si è voltato in mezzo al tornante. Di classe. Dietro Cus controlla il ritmo. Ci si riappalla. Ci si riappau. Riappau. Mal arriva a vedere Dela. Peraltro è l'unico tratto degli ultimi chilometri in cui in qualche modo si vedeva qualcosa e non c'era una nebbia terrificante. E qui ho pensato, dai, magari adesso smette di voltarsi. E si volta. Sei. Raggiunge Dela Cruz sulla curva in uno dei tratti più duri in assoluto. Sgasa via col motorino, col booster, truccato, con la Malossi. Il Dela si pianta completamente e lui si volta. Sette. Fa tipo al triplo della sua velocità, fa palesemente vantaggio. Si sta involando verso la vittoria e si gira. Otto. Non ne posso più. Se io mi incomportassi in questo modo mi avrebbero raccolto la testa un chilometro fa. Dopo la gara si è fatto prestare l'asciugamanino da Rogla per coprirsi. Dietro Cus finisce il lavoro. Strappa Roglic. Un po' perché ormai la vuelta è il suo parco giochi personale. Un po' perché comunque non vuol lasciare troppo spazio a Lopez. Ancora una volta i valori sono quelli lì. Roglic, Mass, Bernal. Dietro, Haig, Concus. Lo aiuta, Leganito. Che fa un altro paio di strappate. Gli ultimi chilometri. Si alternano un pochino lui e Roglic. Mentre Mass sta sulle ruote. Una volta tanto. Con criterio. Anche se lui si sarebbe stato lo stesso. L'ha presa solo come scusa. Lo sappiamo tutti. Momento Colombia. È il superban! Ho sentito una registrazione di una telecronaca colombiana. Va a gagnare il superman Lopez. Va a gagnare il superman Lopez. È il superman! Agevolato dal fatto che nelle ultime centinaia di metri non si vede letteralmente nulla. Se non i fanali delle moto. E qui sembravano veramente delle scene da ciclismo epico di una volta. Quando si arrivava di notte. Ferma il suo record personale. Comunque abbattuto. Il nuovo record sul territorio spagnolo. Di otto torcicollate dopo un attacco su un arrivo in salita. Riusciamo anche a vederlo per un attimo prima della fine. E però alla fine no. Where is Waldo? Where is Michelangelo? Credo sia questo ma non ci scommetterei. Questa è la classica esultanza della quale non puoi metterti il poster in camera. Che sfiga! Sì diciamo più o meno la stessa resa di quella di ieri. Però Primo sei proprio tutti cool. E al di là di tutto il fatto è proprio che in questa tappa il quarto arrivato arriva a 22 secondi. Il decimo ha un minuto e spicci. Si salvano praticamente tutti. E hanno perso posizioni Groschartner, Martin e Eiching. Ok. Sai che roba. Mal si avvicina a Mas. Sarà un interessante duello interno ai Movistar nella crono finale. Con Mas comunque favoritissimo direi. Jack Hague mantiene il quarto posto. E il podio diventa abbastanza difficile ora ma non impossibile. Visto quello che ha combinato Lopez nella crono dell'anno scorso e la Planche de Belfia. Lega Nito distanzia un pochino quelli dietro di lui. Ma non raccoglie. E l'avrebbe meritato tantissimo. Non sorpassa neanche Hague. Per queste quattro posizioni ma anche quelle successive ci sarà ancora bella lotta alle tappe 20 e 21. La 20 dovrà essere quella dei potenziali baltoni. Ma visto come hanno corso oggi dubito fortemente che gli altri proveranno a spodestare Primo. Sarà una specie di Movistar contro tutti per le posizioni sul podio. Un Jack Hague con le labbra viola a fine giornata ha dato credito alle tattiche della propria squadra. Magari se la prossima volta prendete la fuga fate un po' voi. Altro elemento che potrebbe animare l'ultima tappa in linea. La corsa per la Poix. Oggi Storer ha sorpassato Romain Bardet. Lotta interna alla DSM. E non ho ben capito quale fosse il loro obiettivo di oggi. Se cambiare leadership e passare direttamente a Storer iniziando a ignorare Bardet da adesso in poi. Però Bardet ha cercato di rimanere con i migliori alla fine. Oppure se ci sono delle fazioni interne dentro la squadra. Perché Storer ha già firmato per la Rupama FDG. Motivo per il quale pensavo che favorissero più Bardet che invece è contrattualizzato. E adesso sono curioso di vedere come si comporteranno alla 20. Anche perché c'è Roglic in agguato. Occhio che poi finisce come Altur con Poggi a fare tutti sti giochini. Vi saluto con uno splendido e meraviglioso ginone meder. Se ti piace quello che faccio non lesinare di premere tasti più o meno tutti quelli che trovi qua sotto. Anche il dislike se vuoi. Ma solitamente sono quelli della Rai credo. E ci vediamo ai prossimi video. E domenica vorrei fare una live per la cronometro finale. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. E se sareste presenti. Anche ginone guarda pietre. Ciao!